Il giorno dell'Immacolata Concezione, quindi l'8 di dicembre. Ho cominciato all'età di 5 anni. Riparticipo a queste famose fioccolate. Ora sono arrivato fino a portare la quattro, la quattro andoccia. Capirete le origini della andocciata che nascono dai nostri contadini che portavano le torce per raggiungere il paese nella vigilia di Natale. Usavano queste enormi torce di abete con la ginestra all'interno e si facevano luce lungo la strada. Lascio immaginare via della conciliazione, piazza San Pietro, in un incendio meraviglioso, anche il Santo Padre ha detto che valeva la pena vedervi sfilare con queste meravigliose torce. E dopo Nerone sono gli agnonesi che potevano portare il fuoco in San Pietro. Siamo quasi pronti, l'emozione sale. Posso immaginare? Perchè forte oggi è venuto da stare e figure di fare. Non so incrementalmente poco vario comepperòeka freddisi a copide. Manc acredito che hai lasciatoırла da direnzo. Rami! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.